Benvenuti a Terra Madre, abbiamo Giorgio di Modo Gelateria, Neo Maestro del Gusto con il suo socio. Complimenti, quali sono le vostre aspettative sul progetto? Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio tutti e siamo contenti di essere diventati Maestro del Gusto perché appunto ci dà la possibilità di farci conoscere sulla città di Torino perché è un progetto importante che dà la possibilità anche appunto di partecipare a diverse manifestazioni così come Terra Madre quindi ci aspettiamo da questo progetto qualche riscontro dalla città di Torino, da chi segue il progetto, chi ne fa parte anche. Se non erro voi avete due gelaterie su Torino? Esattamente, sì. Cosa vi ha portato a essere però gelatieri? Voi siete giovanissimi, qual è stata la scintilla che vi ha portato a essere gelatieri? Allora, noi diciamo che io e il mio socio Guido siamo amici da quando eravamo ragazzini, quindi da quando andavamo a scuola e abbiamo conosciuto casualmente un maestro gelatiere che ci ha insegnato il mestiere praticamente dalla base quindi a fare il gelato senza preparati ma equilibrando la ricetta partendo dalla panna quindi quello che ci ha poi convinto in questo progetto è la preparazione che ci ha dato questa persona e tutta la professionalità, la passione e l'interesse che ci ha inculcato questo maestro e la voglia anche di fare qualche cosa diciamo di nostro e di metterci in proprio quindi di prenderci questo rischio. Allora, complimenti per essere entrati nella famiglia di Maestre del Gusto e buon terra madre. Grazie mille.